Buongiorno a tutti, allora innanzitutto io vorrei fare i complimenti ai ragazzi che sono già saliti sul palco e che salgono sul palco oggi perché il fatto di aver scelto di condividere la vostra idea di valore con noi oggi è stato un gesto veramente coraggiosissimo. Credo che con il vostro intervento voi possiate cambiare, anzi sicuramente cambierete, il punto di vista su quello di cui andrete a parlare in alcune delle persone che sono nel vostro pubblico. Ma sapete, questo viaggio della condivisione è prezioso anche per voi, non soltanto per noi che vi ascoltiamo, perché voi nel prepararvi per raccontarci, nel preparare il vostro discorso avete imparato a conoscere meglio voi stessi. È stata una cosa molto molto importante per voi e questo ve lo ritroverete, è un regalo che voi fate a noi ma è anche una cosa che rimane a voi. Pensate che mondo sarebbe se nessuno avesse il coraggio di condividere le proprie idee. Rimarremo tutti nella nostra scatola e non scatterebbe la scintilla nel cervello, nel nostro cervello, ovvero quella che porta alla creazione, alle idee di valore. È proprio questa la mission di TED-Ed. Alzate la mano, qui nel pubblico tutti, alzate la mano, se sapete che cosa è TED-Ed, se avete mai sentito parlare di TED-Ed. Wow! Wow! Ok, quindi abbiamo un pubblico informatissimo. Comunque, per chi TED-Ed è, diciamo, una cosa nuova in Italia, io in questo momento sono la leader, diciamo, degli altri insegnanti, degli altri leader e per chi non sapesse che cos'è, voglio raccontarvi. Dunque, nacque circa cinque anni fa, fa parte di TED, questo movimento, nacque circa questa piattaforma, a me piace dire movimento, ma in realtà è una piattaforma, anche movimento, come animazioni, ok? Che probabilmente alcuni di voi avete già visto, perché sono animazioni che sono state create da parte di TED per aiutare gli insegnanti a svolgere il proprio mestiere. Vi invito veramente, se non l'avete mai visto, ad andare a dare un'occhiata. Ma come si suol dire in Italia? La fame viene mangiando e gli insegnanti, come me, anch'io sono un'insegnante, hanno incominciato a chiedere a TED, a TED-Ed, a quel punto c'era già, di creare un percorso per portare anche i ragazzi sul palco, non soltanto gli adulti. Ed eccolo che nacquero i tredici laboratori, ecco che nacquero i TED-Ed Club, scusatemi, i tredici laboratori, come noi li conosciamo oggi, attraverso i quali i ragazzi salgono sul palco, sì, però imparano anche qualcosa sullo storytelling, sullo storyboarding, imparano anche a utilizzare i social media, imparano anche a utilizzare i media di esposizione in maniera efficace. Oggi i TED-Ed Club sono presenti in 130 paesi nel mondo e oggi ci sono all'incirca 6.419 TED-Ed nel mondo. Pensate che in Italia, soltanto nel 2017, sono stati approvati 75 TED-Ed Club e noi vogliamo fare in modo che questo numero aumenti, anzi sta aumentando in maniera esponenziale. Come? Dunque, noi abbiamo già iniziato a contattare individualmente tutti i leader, che possono essere docenti, possono essere formatori, possono essere membri della comunità, non devono essere per forza insegnanti delle scuole, chiunque si innamori un po' di questo progetto, come è successo a me e a tanti altri. Stiamo già contattando perché vogliamo creare una rete viva, una rete attiva, una rete di scambio. Sapete, io sono così entusiasta perché sono stata così fortunata da essere invitata, proprio da TED, dai TED-Ed, chiamiamolo insomma, perché a volte si fa un po' di confusione, comunque è sempre TED, a novembre a New York, non sapevo di cosa si trattasse. Era semplicemente un insieme di insegnanti, questi distinguished educators, come loro li chiamano, che sono semplicemente persone che amano i ragazzi e che amano il loro mestiere, perché si tratta di quello, si tratta di valorizzare gli insegnanti e in questo modo l'insegnante, avendo gli strumenti adatti, gli strumenti che servono, è più efficace. Poi l'insegnante deve essere d'accordo, anche entusiasta dei ragazzi, però questa combinazione è vincente e quindi abbiamo iniziato a fare quello. Infatti poi vi racconto che quest'autunno a Torino, dove abito io, ci sarà il primo raduno, perché Summit, mi sembra un po' ambizioso, comunque chiamiamolo Summit, dei TED-Ed Club Leaders, sarete ospiti nostri, durerà esattamente come è stato a New York per me, io voglio un po' ripetere l'esperienza, voglio condividerla con tutti i miei colleghi TED-Ed Leaders e in questa occasione ci racconteremo quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto e magari poi sarà un'occasione per creare un progetto comune, ma vero, vivo, non soltanto sulla carta. Organizzeremo anche dei workshop, il primo si sta muovendo tutto molto velocemente, io sarò a Gallarate domenica 25 febbraio, per chi fosse di Milano o fosse in zona e volesse partecipare, sarà nel pomeriggio, non ho ancora tutti i dati, però sarà il primo workshop, diciamo, informale, in cui io racconterò un po' a tutti gli insegnanti che ci saranno, ma anche alle persone che assisteranno a questo evento, come si svolge il TED-Ed Club e appunto il beneficio che possono trarre loro e i loro allievi. Io vorrei che ci lasciassimo con una promessa, oggi io vi faccio vedere questo video racconto, che è soltanto una condivisione di una cosa che io ho fatto, però è per incentivare anche voi, per fare scattare anche in voi la scintilla, diciamo, dell'entusiasmo, per motivarvi un po', e voglio soltanto condividere con voi per quello, per quel motivo lì, e lasciarvi con la promessa di rivederci il prossimo anno con un video racconto che contenga dei pezzettini di tutti i TED-Ed in Italia, non soltanto il mio. Che ne dite? Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque questo video è stato realizzato, noi abbiamo la fortuna di avere, ci tengo molto a raccontarvi anche questo, perché poi anche voi facciate delle sinergie con la community, il Politecnico, ovviamente io non ho fatto col cellulare questa cosa, quindi ci tengo a parlare anche di loro, mi sei innamorata un po' anche il Politecnico, due persone del Politecnico, un professore del progetto, e quindi loro ci seguono e quindi loro ci seguono e insegnano i ragazzi tutta la parte di come fare le foto, come fare i video in maniera molto molto veloce, però c'è anche questa competenza. Quindi vi invito a pensare anche se magari avete delle università vicine, qualcuno che potrebbe appunto innamorarsi anche del vostro gruppo, è sempre una bella cosa avere questo cambio. Ultimi scambio, io volevo ringraziare Andrea e fargli complimenti, perché io l'anno scorso ero qua come spettatrice, mai più avrei pensato di essere sul palco oggi, e direi che abbiamo fatto un sacco di cose insieme e lui comunque è un bravissimo host, è un meraviglioso organizzatore di eventi e questo come l'altro è bellissimo, quindi complimenti e grazie a voi, buon proseguimento. Grazie.